100 giorni di nuova Banca Etruria, tempo di bilanci e previsioni sul futuro del neonato istituto di credito. Sono partite infatti le operazioni utili alla vendita della banca coordinate dalla nuova dirigenza. Il termine ultimo, come già fissato, sarebbe l'estate e quindi resterebbero solamente pochi mesi per raggiungere l'importante traguardo. Tutte queste settimane noi abbiamo voluto accompagnare la parte mediatica che io cercavo di fare per distinguere il nuovo dal vecchio con qualcosa di concreto. Perché era difficile, io lo vedevo, lo leggevo, lo vedevo nelle tv in cui la confusione era tanta fra nuovo e vecchio ed era anche abbastanza comprensibile. A farsi avanti sarebbero stati investitori, sia italiani che internazionali, e che adesso sarebbero in attesa di ricevere delucidazioni sul bilancio 2015 ed altri documenti informativi sulla solidità dell'istituto di credito Aretino e delle altre tre good bank nate dalle ceneri delle banche salvate il 22 novembre scorso. Siamo arrivati che stiamo producendo il cosiddetto information memorandum che sarà ciò che coloro che hanno dato manifestazioni di interesse potranno incominciare a verificare sul campo i dati e poi di lì ci saranno i processi successivi. L'orizzonte temporale è quello che abbiamo dato fino dall'inizio e entro l'estate e dovremmo arrivare a quel punto con, speriamo, la notizia più positiva possibile.